buongiorno a tutti e benvenuti sul canale antico moderno io sono la dottoressa francesca vera romano e oggi farò una lezione sulla streguneria la superstizione e la magia nella prima età moderna condivido subito il mio schermo con voi ecco qui allora alle soglie dell'età moderna possiamo dire che la religiosità popolare era una miscela di elementi molto diversi sopravvivevano antiche religioni precristiane sia come credenze sia come riti fiumi sorgenti ponti alberi rubi e caverne erano ancora oggetto del culto pubblico anche se camuffato da una patina cristiana un testo consigliato è gaetano greco movimenti religiosi e crese cristiane nell'europa moderna lezioni di storia della chiesa università di siena questo perché perché la popolazione rurale viveva in una situazione di grande miseria e di precarietà quindi bisognava proteggersi dai rischi reali che erano rischi ovviamente legati alle carestie alle pestilenze ma anche rischi magici ovvero la potenza del negativo che poteva irrompere nell'orizzonte rurale travolgendolo che significava che tempeste carestie pestilenze venivano attribuite all'azione sovrannaturale demoniaca quindi era necessario ingraziarsi il dio e quindi di conseguenza anche attraverso la preghiera ma non solo per s'avverso il lievo dalle malattie che si ritenevano spesso essere causate dal demonio gli individui si rivolgevano anche ad operatori magici terapeutici non ufficiali tra questi spiccavano in particolare le donne che spesso possedevano delle conoscenze di natura erbolistica queste donne operavano delle guarigioni di tipo magico accompagnando la somministrazione dei rimedi come decotti e infusi alla recita di incantesimi o di orazioni molte ad eliminare fatture e legamenti che erano ritenuti la causa della malattia all'interno delle comunità di villaggio queste donne definite donne detentrici informali di carisma tuttavia possedevano una catatteristica ambivalente erano sicuramente in grado di guarire togliere gli incantesimi e legamenti e le fatture ma proprio perché a loro volta erano in grado di ricompierle quindi il concetto di fondo è quello della ambivalenza del magico ovvero la capacità di guarire così come di danneggiare l'adivinazione e il ricorso al sovranaturale quindi non attraverso la preghiera ma attraverso la pratica rituale furono condannate fortemente da Tommaso d'Aquino che le riteneva superstizioni ovvero operazioni risultanti di un patto implicito ed esplicito stipulato con il demonio per esempio la question 91 Tommaso parla della divinazione riferendosi come ad un culto del demonio pertanto la superstizione o superstizio è considerata in età medievale come un peccato contro il primo comandamento e implica un patto con il diavolo chi si macchia di questo peccato è anche reo di apostasia idolatria edulia molti sono i trattati che fioriscono in quel periodo ad esempio quello di Guillaume Dovernio o di Ulrich Protestin un testo consigliato è quello di Jean-Claude Smith medioevo superstizioso ma anche di una studiosa francese Emile Lasson superstition medieval dunque nell'elaborazione della categoria di superstizio incise morto nell'età moderna anche l'esame dei singoli casi che emergevano dalle relazioni e dalle lettere che vescovi inquisitori il cari inviavano al Sant'Ufficio e costituirono il materiale di riferimento per la codificazione delle norme processuali tramite un procedimento deduttivo a partire dalla manualistica induttivo a partire dall'analisi delle pratiche si costitui così la giurisprudenza della superstizio furono pertanto elaborate le categorie di superstizio diabolico aggravato di superstizio semplice con i relativi modelli e trattamenti giuridici allora le superstizioni semplici erano le sopravvivenze se così possiamo dire dei riti pre cristiani che erano stati tollerati come abbiamo detto nel medioevo e incamerate all'interno di devozioni legate per esempio ai culti dei santi mi riferisco ad esempio al rito tra virgolette pagano del solstizio d'estate ovvero la festa di San Giovanni Battista che comprendevano pratiche rituali a scopi apotropaici legamenti ad amorem se così possiamo gli incantamenti propiziatori di azioni raccolte di erbe beneauguranti e pratiche terapeutiche per guarire malattie fisiche costituite da rituali che impiegavano oggetti della liturgia cristiana fuori dal loro contesto autorizzato immagini dei santi acqua benedetta incenso orazioni extracanoniche elementi del mondo magico appartenente alla cultura popolare come calamite caraste breviari contenenti scongiuri e formule magiche o erbe curative con l'intenzione naturalmente ad sanitatem quindi per guarire le superstizioni semplici erano punite in modo leggero perché erano considerate degli errori epratici errori di devozione abusi non prevedevano degli errori di opinione quindi non afferivano alla eresis erano pertinenza dei confessori che combinavano generalmente ai rei delle penitenze sfruttate mentre le superstizioni sacravate o diaboliche erano pratiche rituale volte ad ottenere vantaggi in denaro o in amore pratiche divinatori pratiche terapeutiche che prevedevano però anche l'invocazione del demonio pratiche volte al danneggiamento di terzi abuso di sacramenti e di sacramentali come ho già detto tutte queste pratiche contengono elementi diabolici prevedono la stipula di fatti impliciti o espliciti con il demonio il patto esplicito con il demonio si riteneva fosse un patto siglato e scritto direttamente dal dalla persona interessata tuttavia era praticamente impossibile ritrovare un foglio in cui ci fosse scritto un patto con il demonio quindi tutte queste attività di che prevedevano quindi l'invocazione non autorizzata nel nome di dio attraverso anche attività rituali volte alla coercizione erano patti impliciti quindi che prevedevano l'utilizzo dell'intercessione di un demone superata l'emergenza dell'eresia protestante nell'attività del santo ufficio si rivolsero a eliminare tutti i rivali dei sacramenti ecclesiastici quindi magia non ecclesiastica sortileggi incantamenti tutto ciò che poteva minacciare il monopolio sacerdotale del miracoloso quindi ivi compresa la magia popolare papasisto quinto emana la bolla cieli e terre creator che si scaglia contro tutte le forme di magia e divinazione di tipo popolare facendo entrare nell'orbita dell'inquisizione ciò che era anche solo sospetto di eresia come appunto queste forme di medicina popolare tradizionale e la bassa magia perciò un obiettivo fu quello di combattere le pratiche magiche e vietare l'uso di oggetti come amuleti e brevi a scopo curativo dobbiamo fare però un distingo importante quello che io ho detto un attimo fa ho parlato appunto di bassa magia parlato di bassa magia riprendendo un po la definizione che mi ha dato kit thomas della differenza tra learn magic o magia colta e popular magic o ciò che viene comunemente definita bassa magia da ernesto de martino per esempio bassa magia lucano la magia in età moderna è un termine che è connotato culturalmente fino all'età moderna indicava operazioni terapeutiche divinatorie o coercitive messe in atto da un singolo o un sapiente in età moderna invece era un termine utilizzato nella trattatistica ed era adoperato dalle gerarchie ecclesiastiche dai teologi dai filosofi naturalisti e dall'élite contemplava sia una dimensione rituale che una dimensione filosofica di riflessione sul cosmo sull'astrologia sugli effetti dei corpi celesti sull'uomo nell'estico popolare invece la parola magia non compariva mai i termini utilizzati negli atti processuali tendenzialmente sono per l'italia magaria fattuccheria incantamento malocchio e fattura c'è da fare un ulteriore distinguo appunto tra magia naturalis e magia demonica la magia naturalis ovvero l'alta magia la magia colta la magia praticata dall'élite presupponeva la credenza nelle proprietà occulte della natura un esempio erano appunto i rimedi terapeutici considerati anche magia naturalis quando la loro efficacia dipendeva direttamente dalle proprietà non ancora conosciute della sostanza naturale la magia naturalis era legata quindi allo studio e le proprietà nascoste della natura ed era tollerata dalla chiesa e lentamente della magia naturalis si svilupparono pian piano le nuove scienze tant'è che si parla anche di magia razionalista nel 600 quando parleremo poi di bacon ad esempio la magia diabolica prevedeva invece l'invocazione dei demoni per piegare le forze della natura e per ottenere vantaggi e danneggiare terzi marsilio ficino ad esempio opera una divisione simile attribuendo la magia naturalis l'aggettivo bianca e alla magia demonica l'aggettivo nera la magia demonica ha dei punti di contatto con quella che vedremo sarà la stregoneria per la sua dimensione dunque magia d'élite magia popolare non coincidevano avevano alcuni punti di contatto ma utilizzavano dispositivi rituali diversi per la sua componente rituale la magia accolta faceva riferimento a testi provenienti da varie tradizioni in particolare quella giudaica e quella verroistica un testo molto adoperato per esempio era la cradicola salomonis o chiave di salomone un testo magico di matrice giudaica di cui qui ho messo un'immagine gentilmente tratta da pasquale lopez clero le si è magia nella napoli del viceregno è importante porre l'accento sul fatto che nella dimensione rituale della magia uno spazio importante era dato dalla formula che doveva essere recitata la formula magica funzionava perché era scritta o recitata in una lingua segreta arcana o incomprensibile giustiniani e quirini nel loro libellus ad leonem del 1513 scrivono proprio al papa di fare in modo che la messa venga recitata nell'idioma locale proprio per evitare che l'utilizzo del latino fosse mal interpretato dalla popolazione riutilizzato per scopi magici superstiziosi fuori dalla chiesa quindi l'utilizzo della lingua ebraica antica o greca nella magia coltera molto diffuso e il latino nella magia popolare tradizioni distanti dalla propria che possedevano una forza maggiore quanto più sconosciuta vediamo quali sono le leggi della magia come opera prenderemo per riferimento due importantissimi studi antropologici fatti da james frazer e da marcell moss la prima grande distinzione viene fatta da frazer tra magia teoretica e magia pratica ed è esattamente quella che noi abbiamo fatto prima tra magia naturalis e magia demonica marcell moss riprende da frazer la presenza delle leggi fondamentali attraverso cui opera la magia pratica esso la magia contagiosa e la magia omeopatica entrambe basate sul principio di similarità o simboli la prima legge della magia è la legge del contatto ovvero la magia contagiosa contatto o contagio prevede che la magia operi con il supporto di oggetti che devono essere toccati indossati o ingeriti amuleti brevi talismani pozioni detti anche poculi amatori nel caso in cui fossero pozioni ad amore attraverso questi oggetti l'intenzione dell'operatore magico viene veicolato nell'esterno la seconda legge della magia o magia omeopatica prevede che la magia operi attraverso delle azioni su dei simulacri come per esempio bambole di stoffa o statue di cera ad immagini una persona per il principio omeopatico ciò che accade a questi oggetti accade alla persona che rappresentano o raffigurano un esempio eh noto è quello di eh giacinto centini frate eh accusato di aver preparato una suvestizione diabolica ai danni di papa urbano ottavo e quindi di aver preparato una bambola di cera ad immagine del ponderice con lo scopo di ucciderlo quindi operando appunto tramite magia omeopatica per il rituale magico oltre all'oggetto è necessario compiere un'invocazione quindi la rescita della formula che carica di intenzione o forza magica l'oggetto attraverso la sequenza rituale quindi l'oggetto è caricato di questa forza magica che si definisce mana la combinazione formula oggetto rituale crea grosso modo cinque dispositivi che sono le orazioni gli incantesimi incanti i legamenti le fatture sortileggi e i malefici questi dispositivi sono utilizzati ad hoc per altrettanti scopi magici classificati a loro volta in grosso modo quattro tipologie ad amorem quindi le scopi amorosi ad sanitatem terapeutici ad invenendum tesauri quindi per ritrovare i testori nascosti e ad mortem per uccidere vediamo l'orazione l'orazione di fila superstiziosa prende spunto generalmente da una preghiera della liturgia cattolica e viene riformulata su base popolare quindi non è ufficialmente riconosciuta la chiesa si basa quindi su un exemplum solitamente la vita di un santo e funziona con le leggi di contatto e di similarità per il principio della similarità ciò che viene recitato nell'orazione avviene anche nell'essere se invece viene portata addosso a una funzione apotropaica o protettiva e terapeutica sanitatem in particolare l'orazione a san procco utilizzata per curare i malati di pesto per proteggere le ferite di arma o per magia magico costrittiva ad amorem per esempio l'orazione a santa susanna o l'orazione a santa marta ad invenendum tesauri quindi per ritrovare i testori nascosti l'orazione a san cipriano oppure associata ad altri elementi per rituali negromancia l'incantesimo o incanto definito in inglese charme una formula magica pura con una destinazione che può stare prevalentemente ad amore modi invenendum tesauri ma può essere utilizzato anche per sciogliere una fattura l'incantesimo mi è lanciato partecipa delle operazioni magiche insieme agli oggetti rituali anche se può operare in autonomia perché la sua forza incita all'interno della parola è una forza autosufficienza il legamento inglese spell nelle altre statistica medievale e moderna è chiamato anche ligatura verbonum e tendenzialmente a scopo malefico ma anche ad amorem e opera attraverso la seconda legge della magia la magia per definire il legamento è utile riprendere una definizione data dall'etnologo il resto del mattino il legamento fascino ome operazione rituale coercitiva viene effettuata tramite la recita di una formula così associato per esempio fascette di stoffa fascine di grano che vengono intrecciate tra di loro con la recitazione durante la recita dell'informa si compie l'azione quindi l'intreccio e l'atto di intrecciale a livello rituale comporta il legare emotivamente una persona interessata per la legge della magia omeopatica quindi il legamento come ho detto poteva essere ad amorem ma poteva essere anche all'interno di una piante strutturata operazione magica ad mortem come la fattura o un danneggiamento raramente ad amorem la radice è fac facere l'azione del fare fare con le mani preparare un'azione rituale ordinata che contempla l'uso di oggetti ed artefatti qui il termine fattucchiere fatturaria come scrive marina montesano gli oggetti della fattura sono di due tipi a seconda se la fattura opera tramite magia di contatto contagio oppure tramite magia omeopatica nel primo caso sono capelli erbe polveri sangue da fare ingerire in particolare sangue mestruale per le fatture ad amore nel secondo caso invece come ho detto prima statuette o bambole di cera quindi appartenenti a quella che viene definita anche la superstizione diabolica la statuetta viene fatta sciogliere fino alla totale consumazione che per similarità dovrebbe comportare la consunzione della persona raffigurata fino alla sua morte tant'è quindi che una fattura ad mortem oppure spilli aghi da infilare nelle statuette oppure nei cuscini così come questo spillo trafigge il cuscino così si è trafitto il cuore di per il principio che adesso De Martino definisce così come naturalmente nel caso di una bambola in base a dove veniva conficcato lo spillo per efficacia simbolica la persona affatturata avrebbe sentito dolore nella parte corrisposta del corpo all'interno della categoria di queste donne esperte che ho menzionato prima quindi che sono le donne di villaggio tendenzialmente capaci di fare queste operazioni magiche quindi orazioni fatture legamenti incantesimi perché quando parliamo di magia popolare ci riferiamo principalmente ad un orizzonte rurale vi erano anche le levatrici che svolgevano un ruolo estremamente importante di collegamento tra la vita e la morte nei casi di grande emergenza come per esempio quando i bambini nascevano in condizioni di salute molto precarie potevano essere autorizzate a somministrare il battesimo allo stesso tempo queste donne avevano un legame profondo quindi con la vita e come la morte e con la morte quindi spesso potevano essere ritenute responsabili di maleficium ovvero di omicidio magico ma non solo le levatrici le donne di villaggio in generale che parliamo sempre di un orizzonte rurale spesso venivano accusate di maleficiare i bambini che le loro vicine li lasciavano quando andavano a lavorare nei campi come avveniva questo maleficium questo maleficium avveniva attraverso il tocco che guasta ovvero il tocco che poteva provocare la morte del bambino quindi un omicidio magico la morte del bambino ovviamente avveniva per lo più durante l'età moderna per deperimento perché vi erano carestie pestilenze e malnutrizione tuttavia come ho detto prima le cause venivano attribuite al sovrannaturale quindi all'invidia della vicina in particolare tanto che nei processi spesso ricorre l'accusa di seccare i bambini ovvero farli deperire è un importante studio di oscar di semplicio inquisizione stregoneria medicina sia nel suo stato parla appunto anche di questo concetto del seccare i bambini o guastare i bambini arriviamo quindi appunto al concetto di stregoneria quindi abbiamo due forme di stregoneria collegate appunto al concetto di maleficium uno e all'altro al concetto di sette reticale tant'è che parleremo di stregoneria diabolica o cumulativa del modello alpino legato all'idea di sette reticale che va sotto il termine witchcraft e la stregoneria folclorica legata al modello mediterraneo più vicina alla magia e alla superstizione che va comunemente sotto il termine sorcery a partire dal quattordicesimo secolo con la diffusione dei grandi movimenti reticali entrerono nell'orbita dell'eresia anche queste figure femminili detentrici informali di carisma nell'europa del nord in particolare e in particolare nelle valli alpine al confine tra l'italia la francia per esempio la svizzera furono progressivamente accusate di far parte di una sette reticale con a ca il diavolo quindi la stregoneria che si definisce diabolica come ho già detto del modello alpino ovvero la witchcraft in italia per esempio le zone dove la persecuzione fu più forte in questo senso furono le valli come la valcamonica e la valmesolcina in particolare le diocesi di milano e di dove scaturì questa persecuzione fu emanata una bolla nel 1484 da innocenzo ottavo la bolla summis desiderantes affectibus che equiparava strettamente le streghe agli eretici considerando i loro crimini come dei reati contro la fede. Il bolla quindi diede il via alla caccia alle streghe in particolare dalla Germania meridionale. Come fu sistematizzata a livello teologico? Questo concetto di stregoneria diabolica o stregoneria accumulativa fu teorizzato da due teologi domenicani Jakob Sprenger e Henrik Kramesin Stridoris nel 1487 nella loro opera più famosa che il male smaleficava. Secondo il parere dei due teologi alcune donne avevano stipulato un patto con il diavolo e si recavano in volo a delle radunanze o ragunanze più tardi chiamate sabba durante le quali si lasciavano andare in compagnia di demoni astrenati in banchetti ed orge in onore di Satana. Il loro volo avveniva siam corporalite ovvero con il corpo e rappresentavano un pericolo perché il loro raduno era considerato un raduno di eretiche potenzialmente subversivo. Veniamo invece alla stregoneria folclorica o mediterranea. La stregoneria folclorica o mediterranea è legata alla pratica magica così come l'abbiamo definita prima al maleficium e alla superstizione così come lo abbiamo definito come concetto prima all'inizio. Il modello della stregoneria folclorica o mediterranea è basato sul concetto di volo in immaginazione e prendiamo subito la differenza che viene fatta da Brian Levac tra le due inquisizioni. L'inquisizione d'oltre Alpe e l'inquisizione mediterranea. L'inquisizione mediterranea comprende Spagna, Portogallo e Italia mentre l'inquisizione d'oltre Alpe nei territori comunemente poi definiti protestanti. Quindi oltre le Alpi. Il modello della stregoneria folclorica o mediterranea è basato sul concetto del volo in immaginazione. È strettamente legato al concetto di superstizione e mutuato da un capitolare franco risalente all'undicesimo secolo, il canone episcopi. In questo testo si parla di donne che credono di volare perché sono sotto effetto di sostanze allucinogene ma non sono direttamente adoratrici di Satana bensì da esso illuse perché sono donne che vanno al seguito della dea Diana. Per l'associazione tra divinità precristiane del pantheon romano e demoni fatta da Agostino di conseguenza queste donne finiranno per essere considerate illuse dal diavolo. Con l'equivalenza divinità precristiane quindi Diana ma c'è anche Madonna Oriente ma c'è anche Olda, non c'è anche Percta quindi vita femminili associate quindi al diavolo. Vediamo alla parola strega. Allora il termine strega così come si va connotando prende origine dalla mitologia greca e dalla letteratura romana. Per esempio Circe e Medea, ne parla molto Marina Montesano di questo sono donne che compiono azioni magiche quindi quando si parla di Circe e di Medea si parla di maghe. Invece in Ovidio nei fasti abbiamo la Strix inteso come donna uccello che succhia il sangue, un uccello rapace notturno. In Apuleio invece nella Sinodoro abbiamo le Saghe quindi abbiamo una definizione che già comincia a profilarsi ma non è ancora definita, sono due stereotipi differenti. Nel Medioevo il termine Strix viene adoperato per la prima volta da Bernardino da Siena nella sua predicazione che porterà alla condanna di due donne Finicella e Matteus nel 1424 e nel 1428. Invece con Silvestri o Priero i due termini maga quindi mutuato da Circe e Medea quindi the sorcerer e strega come Strix sono uniti nella sua opera d'Estrici Magarum quindi vengono associati questi due stereotipi. Strega come donna uccello succhia sangue in aggiunta infanticida e strega come maga divinatrice e curatrice. Prendiamo un caso emblematico che accade nell'età moderna, il caso di Triora. Tra il 1589 delle donne sono accusate di aver provocato una carestia. Triora appartiene alla Repubblica di Genova. Il Parlamento locale chiede l'intervento delle autorità ecclesiastiche e delle autorità laghe. Quindi intervengono l'inquisitore di Genova e il vicario dell'inquisitore di Albert con l'arresto di venti donne che progressivamente con delazioni e torture arrivano a tre. Il Consiglio degli Anziani del 588 chiede però un procedimento più cautelativo che tuteli di più queste donne. Vediamo perché è importante. Mentre un commissario scribani dell'inquisizione di Genova inasprisce il clima trasferendo le donne incarcerate a Genova e emettendo una condanna a morte per gli avvisati. L'intervento dell'inquisitore di Genova che è il giudice sui casi chiede il trasferimento del processo da Triora a Genova e grazie all'intervento del Doge e una richiesta al Santo Uffizio di moderazione nel 1589 questo processo finisce e le donne vengono liberate. Il concetto di Maleficium così come l'avevamo espresso è un concetto che richiede un approfondimento da un punto di vista giudico perché nel 1623 viene emanata da Gregorio XV una bolla omnipotentis dei e riguarda il maleficio. Il tradizionale concetto di Maleficium inteso come crimine di misto foro ovvero di competenza ecclesiastica e competenza laica decretava la pena capitale per i responsabili di malefici mortali e l'immurazione per i danni gravi. La omnipotentis dei aveva introdotto la pena di morte per apostasia al diavolo pertanto Santo Uffizio e i suoi delegati avrebbero dovuto promuovere una forte lotta anche contro la stregoneria diabolica naturalmente nelle aree dell'arco alpino e quindi anche nell'area dell'Appennino e Ligure come nel caso di Triora. Tuttavia all'aumento dei processi per superstizione non corrispose un incremento dei processi per stregoneria diabolica che al contrario conobbero un drastico calo. Vediamo perché. Perché contemporaneamente o anche precedentemente ormai la datazione è data alla fine del Cinquecento e ne è pubblicato un documento che introduceva la moderazione nei confronti del reato di stregoneria. La instruzione proformandis processibus in causis strigum sortilegiorum et maleficiorum. Quest'opera che inizialmente era stata attribuita a Desiderio Scaglia prefetto del Santo Uffizio negli anni venti del Seicento e ora attribuita a Giulio Monterenzi. Cosa introduce la instruzione? La necessità di trovare un corpus delicti per il maleficium, ovvero una prova concreta per condannare la presunta strega e rilasciarla così al braccio secolare, poiché erano i tribunali civili ad eseguire le sentenze del reato di stregoneria. In questa maniera l'inquisizione rivendica la supremazia giurisdizionale e il controllo sul reato di stregoneria. Quindi, nonostante la pubblicazione della omnipotentis dei, la instruzione proformandis processibus ha un impatto maggiore rispetto alla omnipotentis dei, che rimane un provvedimento sostanzialmente inapplicato. Un altro documento importante che regolamenta e detta le norme da seguire nei confronti dei reati di fiere e quindi anche nei confronti dei sortilegi e dei malefici e la pratica per procedere nelle cause del santo uffizio. Questa opera, attribuita a Desiderio Scaglia, circolava anche in una sua versione manoscritta che pare fosse attribuita al suo nipote Deodato. Nella parte che ci interessa, ovvero il capitolo ottavo dedicato ai sortileghi, Desiderio Scaglia, parla di streghe, sortileghi e stregoni che sono i maghi cittadini di cui non abbiamo parlato ma sono indovini di professione che generalmente operano nelle città perché noi ci siamo occupati dell'ambiente rurale. Sottileghi che le donne accusate di fare malefici e sortileghi sono tendenzialmente delle donne illuse dal demonio. Questo che cosa comporta insieme alla istruzione. Bene più leggere rispetto a quanto accade per la stregoneria diabolica di modello. In particolare penitenze salutari, oblazioni o esili, spesso commutati poi in penitenza. Quindi alla base c'è il concetto di illusorietà del volo, come abbiamo visto, mutuata dal canone episcopi. Poi sistematizzata anche in un secondo momento nell'opera del catena alcaetani Tommaso di Bio. Quindi il concetto di illusorietà del volo implicava che cosa? Anche l'impossibilità di testimoniare contro qualcun altro perché se questo volo avveniva in immaginazione non realmente era un volo illusorio. Perciò anche le persone viste nella compagnia eventualmente potrebbero essere soltanto un'illusione altrettanto. Quindi il concetto di illusorietà del volo è invalida la cosiddetta chiamata incorreo. Quindi la chiamata di testimoni che dichiarano che alcuni compagni possono aver partecipato a queste ragunanze definite sabba. Quindi è una svolta importante nella direzione della moderazione. Ciò per concludere. La caccia alle streghe in Italia, in particolare il tema di cui ci stiamo occupando, ma anche Spagna e Portogallo, fu meno cruenta rispetto all'area alpina, il vi compresa sempre nell'area alpina, anche le valli italiane appartenenti alle diocesi di Osta, Milano, Como, Brescia, dove ci fu un alto grado di persecuzione e condanne a morte. Complice anche la penetrazione del concetto di stregoneria accumulativa come setta ereticale. Quindi nei luoghi dove l'infrizione da protestanti e cattolici era più forte. L'inquisizione romana quindi si orienterà principalmente alla lotta alla magia popolare, alle superstizioni, con lo scopo di controllare attentamente le pratiche di devozione che miscelavano elementi della liturgia cattolica con elementi magici. Qual era la finalità? Non perdere il monopolio del sagno. Quindi no alle terapie tradizionali per scacciare i demoni e togliere le fatture sì invece alla pratica esorcistica che veniva praticata da sacerdoti specializzati, quindi gli esorcisti, in particolare Girona Momendi, autore del Fagellum Demonum e del Comunio. Gli esorcisti quindi rappresentavano l'alternativa ufficiale alle terapie tradizionali delle donne di villaggio. Quindi se vi era una possessione demoniaca, se vi era un'alternativa potenzialmente causata dal demonio, beh allora a quel punto dovevano intervenire i sacerdoti specializzati, quindi gli esorcisti, che attraverso un rituale codificato e preciso, il rituale romano, il cui estratto potete trovare se siete a Roma o se vi trovate a Roma, sull'obelisco presente a Piazza San Pietro, non altri operatori. Vi ringrazio per l'attenzione. Arrivederci. Vi ringrazio per l'attenzione. A presto. Questa. A presto.